Da oggi fino al 30 settembre via libera alla caccia al cinghiale. È quanto stabilito ieri dalla giunta regionale su proposta dell'assessore all'agricoltura Emanuele Imprudente. La caccia si potrà praticare a partire da un'ora prima del sorgere del sole fino ad un'ora dopo il tramonto, tutti i giorni esclusi quelli di silenzio venatorio, ovvero il martedì e il venerdì. La caccia di selezione permette un riequilibrio della struttura delle popolazioni del cinghiale, potenzialmente compromesse dall'ordinario esercizio della caccia collettiva imbraccata che tende a favorire le classi giovanili, si legge in una nota della giunta regionale. L'obiettivo però è anche quello di limitare i danni alle attività antropiche e colture in primis. Non di rado infatti i numerosi cinghiali saccheggiano i campi coltivati con ripercussioni economiche per gli agricoltori. Controllare la popolazione degli animali selvatici inoltre potrebbe essere utile anche a rallentare l'avanzata della peste suina africana che in Liguria e Piemonte sta già costringendo molti allevatori all'abbattimento dei maiali. La peste suina infatti si diffonde principalmente a causa degli animali selvatici che possono percorrere anche decine di chilometri. Per la salute umana non rappresenta alcun pericolo e contagia esclusivamente i suini. Ma il virus è molto contagioso ed è in grado di resistere a lungo al di fuori di un ospite per i maiali a un tasso di letalità del 90%. Le normative in caso di contagio prevedono l'abbattimento di tutti i capi rappresentando un alto rischio per tutta la filiera della produzione e della trasformazione delle carni.